A prendere fuoco sarebbe stata prima l'auto di servizio, poi le fiamme hanno avvolto anche la vettura privata di un militare dell'arma, anche questa andata distrutta. Ancora carabinieri nel mirino della criminalità in Puglia, dopo l'attentato di Namitardo messo a segno nella notte tra il 10 e l'11 febbraio a Ruvo ai danni di un vicebrigadiere in servizio presso la compagnia di Andria, un nuovo caso inquietante si registra a Gioia del Colle. E' accaduto ieri notte quando un misterioso rogo ha distrutto due vetture, un'autocivetta dell'arma e l'Audi a 6 di proprietà di un militare della compagnia locale. Le macchine erano parcheggiate in strada nella centralissima piazza Umberto I negli spazi riservati alla caserma che si trova nella vicina piazza Plebiscito. L'incendio si è verificato intorno alle 4. Da una prima ricostruzione, dopo aver completamente avvolto l'auto di servizio riducendola ad una carcassa carbonizzata, le fiamme si sono poi estese anche all'Audi parcheggiata poco più avanti, danneggiandone la parte anteriore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Al momento la pista più concreta sarebbe quella del rogo di origine dolosa. L'episodio riporta alla mente quanto accaduto solo tre giorni fa a Ruvo di Puglia, dove la Fiat 16 di un militare in servizio presso il nucleo radiomobile di Andrea è stata fatta esplodere con un ordigno artigianale composto da circa mezzo chilo di tritolo. La direzione distrettuale antimafia di Bari ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. I reati ipotizzati sono di porto e detenzione di esplosivo e danneggiamento, entrambi aggravati dal metodo mafioso. L'auto e tutti i suoi frammenti sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti balistici. L'inchiesta al momento è a carico di ignoti, ma gli inquirenti non escludono possibili collegamenti tra l'attentato, l'attività professionale del carabiniere e gli ambienti della criminalità organizzata andriese.